il neolitico o età della pietra nuova è l'ultima fase della preistoria esso prende il nome dalla nuova tecnica di lavorazione della pietra non più scheggiata ma levigata convenzionalmente il neolitico inizia nell'ottomila avanti cristo e si chiude con la comparsa della scrittura in mesopotamia intorno al 3000 avanti cristo il neolitico segna la nascita dell'agricoltura cioè della capacità di coltivare le piante fino a 11.000 anni fa l'umanità si procurava i prodotti spontanei della natura con la caccia la pesca e la raccolta a partire dall'ottomila avanti cristo alcuni gruppi umani dettero inizio a un nuovo modo di vita basato sull'agricoltura nella mezzaluna fertile cioè in medio oriente e nella valle dell'indo per la prima volta si comprese la relazione tra seme e pianta si cominciò allora a guidare la riproduzione di alcune piante appunto con la semina e a domesticarle cioè a renderle più produttive e il più possibile adate all'uso alimentare parallelamente all'agricoltura si svilupparono una serie di attività produttive e variamente interconnesse ad essa come vedremo negli altri due video